ciao questo è il solito video che volevo anche che anche se come film deve ancora uscire poi li volevo dedicare in cominciare a dedicare questo video che volevo parlare del secondo del secondo film che deve uscire il mercoledì 2 ottobre di quest'anno che volevo parlare del secondo film di gioche folia dex deux che ci deve essere ancora il vecchio attore che ha fatto il primo questo giochi in foe for enix che mai come il risorgio e joker mai può prendere magari il solito generazione drammatico che la parte della regia e di questo todd phillips che in questo secondo parte questo sequel ci deve essere anche la cantante lady gaga che dovrebbe come si dice dovrebbe fare la parte di harley queen che questo secondo parte magari come si dice che dopo il suo exploit di follia nel film di leone d'oro a venezia del 2010 di 2019 arthur fleck è stato arrestato e affidato a questo istituto psichiatrico arc arc asilum che qui fa la conoscenza della proprio della psichiatrica alle queen con lei e instaurerà una pericolosa relazione che dopo aver aver più volte annunciato che giochi non avesse bisogno di un di un sì con lei questo regista dovrebbe il regista e sceneggiatore questo todd phillips si è convinto morà invece a proseguire nella storia che del resto ha avuto un enorme successo anche di pubblico che il primo film che avevano fatto ha avuto un enorme successo con sempre a parte di giocare nel primo aveva anche dei disturbi come si dice dei problemi di quando magari aveva tipo quelle risate non controllate da parte su questa dicendo che a cui si dice che se nel primo capitolo il suo modello era stato scorsese questa volta di regista sembra percorre una strada più più che altro più originale scegliendo questo genere musical che harley queen sarà infatti interpretata come ho detto prima da questa dalla pop star lady gaga che le dà un tono meno ma infantile rispetto a quello di margot robbie nei precedenti film della dc comics che volevo mora anche se deve ancora uscire il film e li voglio cominciare a dedicare questo video che al massimo quando uscirà il 2 di ottobre magari ne farò un altro dedicato questo film che dovrebbe qua in italia dovrebbe essere distribuito dalla warner boss italia come film che come stavo dicendo quando uscirà il 22 di ottobre e lo riuscirò sicuramente a andarmelo a recuperare e li dedico un altro video a questo sì seconda parte questo sì quelle di gioche con le dica ha detto che più che altro li volevo magari incominciare a cui si dice parlare un attimo di questo sì quel di gioche visto che magari si avevano ma magari già incominciare ad avere informazioni su questo film ne volevo ti può parlare un attimo che il suo titolo originale è proprio il gioco e folia dex de ax che come si dice che ma lei tutte le informazioni che ma lei che riuscirò mai a trovare per adesso ma lei come al solito ve li ve li metto come come al solito sotto in descrizione e dopo vuole sono anche morei curioso mai ha anche a vedere magari come si dice la parte magari di arlen queen da parte di di questa da parte di lady cacca che ho già provato morai a vederla morai in altri film a lady cacca che quei film che ha fatto adesso mi erano sempre piaciuti che più che altro morai in questo secondo capitolo di questo clown di cortana deve come stavo dicendo fare fare interpretare i marei i vesti marei i panni di arley queen che si vede marei questa arley queen marei un po diversa dal solito che marei sulla i dettagli marei della trama marei per adesso non ci sono ancora che sicuramente marei più avanti marei visto che manca manca adesso un mese sicuramente più avanti in questo mese i dettagli marei della trama arriva arriveranno prima che si uscirà marei prima che uscirà marei a come si dice al cinema che in questo secondo parte come ho detto mai prima dovrebbe toccare più che altro marei anche il genere musical a posto di concentrarsi marei più che altro su proprio su joker c'è che adesso essendoci anche a parte di arley queen marei sarà un attimino diverso che già quando avevano fatto il primo che concentrarsi proprio il film proprio su joker è stata magari anche una una mi ha piaciuto anche la prima parte da parte mia dopo già il primo ho visto che a molte persone e ha piaciuto che questo film anche se deve risultare come si dice e anche se prima ho detto marei il genere drammatico proprio più che altro adesso dovrebbe essere più che altro marei questo musical thriller che quello che ho capito io dovrebbe anche due e quelle due ore 18 come film questa seconda questa seconda parte e niente che quello che potevo magari dire per adesso su questo secondo film di joker l'ho già detto che al massimo tutte le informazioni che riesco a trovare per adesso anche se manca quel mesetto le trovate marei sotto vi li metto sotto in sotto in descrizione tra il trailer che hanno pubblicato almeno fino adesso trovate marei tutte le informazioni marei sotto in sotto in descrizione e niente per adesso mi saluto e ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto sul i soliti che porto sul sul mio canale e niente vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao